Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna, hanno tratto in arresto un 38enne di Ogliastro Cilento, già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno rintracciato e arrestato l'uomo, il quale è stato condannato alla pena definitiva di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato di evasione. L'uomo, detenuto agli arresti domiciliari, fu arrestato a Giungano nel gennaio 2013 dai militari della stazione di Capaccio Scalo, perché trovato fuori dalla propria abitazione a passeggiare liberamente senza nessuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'arrestato, dopo le operazioni di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.